Nuova vita per il Museo della Scuola, arti e mestieri della tradizione sansese. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dei locali in piazza 24 Maggio, dove è ospitata la raccolta di strumenti e attrezzi che hanno fatto la storia della comunità di Sansa. Un'esposizione nata dal lavoro di recupero e conservazione fatto dal concittadino Sabino Curcio, che ha messo insieme utensili a Redivari e le ha donati al comune. Gli interventi partiti in questi giorni sono finalizzati al risanamento delle infiltrazioni di umidità che avevano arrecato nel tempo gravi danni alla struttura, mettendo a rischio soprattutto gli impianti elettrici. La ditta incaricata dei lavori sta procedendo alla rimozione dell'intonaco danneggiato a causa dell'umidità per poi passare agli interventi di consolidamento e riqualificazione. Lavori urgenti e non più procrastinabili, ha affermato il sindaco Vittorio Esposito. Al termine ci restituiranno i locali sanificati e idonei alle attività per le quali sono programmati. Si tratta di un investimento da 50 mila euro grazie ad un finanziamento ministeriale per un progetto che era necessario viste le condizioni dei locali dove l'esposizione dei materiali cimeli storici era stata sistemata. La scelta della riqualificazione è stata condivisa dal signor Sabino Curcio che, assicurato esposito, ha preferito custodire nei tempi necessari ai lavori il materiale espositivo. L'amministrazione comunale ha concluso, ha agito per salvaguardare il patrimonio inestimabile del museo.